vai 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 continua 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 vai dai 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 papi che ti filmo scia vieni 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 come si fa a zoomare? dai vai vieni vieni a destra dai ma non riesco dai dai vieni 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 vai vai ma non riesco ti ho detto non riesco muoviti che mi sto congelando le mani continua 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 che mi giro ti firmo da dietro vai vai continua continua vai vai continua un po' scoordinato però nello mi fai vedere la capriola nello dai capriola nello fai un capolo dai buttati in attimo dai nello tutto è tec